In alcuni punti della città di Fano possiamo tranquillamente parlare di segnaletica fantasma. C'è ma non si vede e soprattutto non serve a niente e a nessuno, non essendo visibile agli utenti della strada ai quali invece è indirizzata. Sono diverse e molteplici le segnalazioni che ci sono arrivate a questo proposito da diverse parti della città. Ma procediamo con ordine, stiamo parlando di segnaletica verticale, cartelli stradali e quindi molto importanti per gli autobomilisti, completamente nascosta dalla fitta vegetazione che ormai li ha completamente inglobati nelle folte chiome o in fitti cespugli. Il primo caso che vi facciamo vedere e che se vogliamo merita la palma di più segnalato è la cartellonistica che indica direzioni da prendere ed autostrada sul Ponte Rosso, versante Canale Albani, proprio di fronte al semaforo di via della Biazia. Qui un folto canniccio, oltre ad invadere completamente il passaggio pedonale, ha ingoiato i cartelli di modo che, soprattutto per chi viene da fuori, quindi i non fanesi, una volta ripartiti dal semaforo la destinazione è sconosciuta. I fanesi sanno che in fondo c'è l'ingresso della superstrada, i fanesi sanno che da lì si va o a Roma o verso la città ducale di Urbino. Solo i fanesi sanno che girando a sinistra invece si va verso il centro, verso la stazione o, ancora più importante, si può raggiungere l'ospedale di Fano. Solo i fanesi, per gli altri, vige la più fervida immaginazione, verso l'ignoto e oltre. Ma che dire poi di un dare precedenza all'angolo di via Torquato Tasso, dove non si vede nemmeno il palo nel bel mezzo di un parcheggio per auto, dove chi deve dare la precedenza non sa di doverla dare, se non altro facendo appello al proprio buonsenso o alle poche reminescenze di scuola guida. Altri cartelli fantasma, che se sono stati posizionati lì è chiaro che a qualcuno devono essere utili, perché contengono importanti indicazioni come limiti di velocità o altro, anche lungo Canale Albani, dove un triangolo rosso e un cerchio rosso, che vorranno dire? Arduo saperlo, a patto di non fermarsi e scostare i fitti rami con la mano per capire che cosa c'è scritto sopra. Ma oltre a non sapere andare dove dobbiamo andare e a rischiare i punti della patente per non rispettare le prescrizioni comunali, mettiamo a rischio anche l'incolumità dei pedoni, i quali, ignari che noi non abbiamo visto il segnale fantasma che ci avverte della prossimità di un attraversamento pedonale utilissimo, soprattutto nei casi in cui le strisce pedonali a terra sono ormai solo un triste e lontano ricordo, fiduciosi e baldanzosi i pedoni attraversano la strada. Quindi voi che venite a Fano sappiate che come per magia il cartello c'è ma non si vede.